ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi il video di oggi volevo farlo sui coltelli esi o esi insomma avete capito insomma per gli appassionati di coltelli sapete benissimo di quali coltelli stiamo parlando in particolare io qui ho due o coltelli riguardanti due modelli che sono tra i miei preferiti in particolare l'esi 6 e l'esi 3 volevo un attimo questo video incentrarlo perché siccome dell'esi 6 ne ho diverse versioni approfittavo di parlarvi del coltello e di farvi vedere le diverse versioni che ci sono quando si acquista un coltello esi che cos'è che si riceve che cosa si trova insomma coltello esi è un coltello che loro fanno anche in diversi acciaio ma in particolare usano molto l'acciaio al carbonio 1095 come molte altre aziende americane il 1095 1095 1095 e come anche tops che bar eccetera eccetera l'esi è praticamente non è altro che quella che una volta collaborava con l'azienda americana ontario quindi li vari rat infatti molti coltelli 3 si sono derivati se non quasi identici ai coltelli rat che una volta venivano prodotti dalla ontario azienda americana di coltelli sportivi e militari rat sta appunto per randall adventure training in quanto la esi diciamo che questi prodotti sviluppa anche e vengono usati nulla in una loro scuola di sopravvivenza che sono molto usati anche in sud america e ecco appunto da lì il nome randall adventure training godono di una forte nomea riguardante la garanzia vita di cui sono possessori insomma dicono che qualsiasi cosa succeda il coltello è garantito a vita e segue la garanzia segue il coltello e non il primo proprietario si fanno forti insomma di questa garanzia quando si riceve un coltello esi che cosa si riceve si riceve un coltello quasi praticamente tutti i loro modelli sono coltelli full tang in acciaio 1095 nel tempo poi si sono modernizzati i primi erano in micarta le manicature sono alcuni modelli li trovo molto ben progettati altri un po po meno ad esempio questo questo particolare io vi dico due di quelli che ho io ad esempio lesi 6 lesi 3 cos'è che mi piace del coltello del modello 6 che è un coltello abbastanza grande con una lama di 16 centimetri e mezzo e un manico di 13 con uno spessore che però è di soli si fa per dire soli 4,2 4,3 mm questo che cosa fornisce questo non è un coltello il miglior coltello per il shopping quindi dettato anche dal fatto che sono 6 pollici di lama 16 centimetri di lama quindi non è che parliamo un coltello un chopper vero e proprio però rispetto ad altri magari un pochettino meno performante sul shopping però che cosa di bello questo coltello che questo spessore comunque non esagerato lo rende molto versatile quindi possiamo passare da un shopping medio piccolo a anche alla lavorazione del cibo perché un profilo di lama drop point full flat quindi praticamente è molto indicato e molto prestante anche nei lavori di taglio puro o anche di preparazione del cibo quindi è un coltello che diciamo che cerca di cavarsela bene in tutti i vari impieghi che si possono trovare in outdoor perché non è che parliamo solo del taglio della legna molto spesso quando siamo in outdoor no coltello può servirci può servirci per tanti impieghi anche il processare il cibo quindi mentre magari un coltello più spesso è più indicato per la legna poi quando andiamo a fare dei tagli su cibari eccetera facciamo fatica perché spacca praticamente con lo spessore che ha questo coltello invece col suo profilo full flat e lo spessore abbastanza contenuto se la cava bene anche in quei lavori è un coltello molto robusto quindi full tank questo qui lo vedete direte ma particolare questo coltello ne ho parlato già in qualche altro video questo qui guardatelo sì però è particolare perché io ho modificato il manico questa era la versione tradizionale proprio le prime uscite quindi mi carta e però le guancette erano molto squadrate e a me davano un po fastidio quindi praticamente lo sagomate tutte per dargli questa forma e poi ho avvolto del nastro termorestringente sul manico adesso da veramente un buon buon buona sensazione in mano molto comoda e poi va beh io l'ho conversato a zero ho tolto un po la copertura l'ho passivato questo è un coltello che ho usato parecchio e devo dire che mi trovo bene altro modello interessante di cui volevo parlarvi è l'esi 6 a un peso di 350 grammi quindi non proprio leggerissimo però un peso che diciamo è ancora portabile o praticamente arriva col suo fodero in plastica praticamente di bello a che è abbastanza adattabile quindi in questo caso e si fornisce anche del dell'attrezzatura accessoria degli accessori in questo caso io ho preso il patch della esi vedete che non è altro che un patch di cordura abbastanza buono con dentro una scatolina metallica che poi potete diciamo riempirla come volete di quello che volete portare che volete portarvi nelle uscite non è molto di più di quello che io mi sono realizzato insomma in cuoio stesso scatolina metallica adesso il contenuto che avevo qui l'ho spostato di qua perché nell'ultima uscita ho usato quest'altro coltello questa appunto che vi dicevo era la versione classica poi vi dicevo io ho modificato anche il manico il fodero scusate perché praticamente dava fastidio che non aveva un blocco quindi la ritenzione era fatta esclusivamente dall'incastro appunto del coltello nel fodero di plastica era un po' ballerino quando lo portavo alla cinta faceva sempre questo gioco qui così io non ho fatto altro che attaccare un pezzo di cuoio con bottone automatico quindi il coltello adesso è ben saldo di questo coltello ne sono venute fuori poi nel tempo diverse versioni questa diciamo è una delle ultime è la versione dove l'ESI ha fatto praticamente ha trasformato un po' la manicatura dell'ESI 6 facendo un manico più tradizionale la lama è rimasta la medesima il manico ha subito questo cambiamento trasformandolo praticamente in un coltello un po' sullo stile sul vecchio stile no? old style i vecchi coltelli no? anche butcher knife da frontiera eccetera una manicatura molto comoda un po' più stondata che rispetto alle originali è molto più comoda pecca un po' del fatto che non c'è una vera e propria guardia quindi bisogna fare un po' d'attenzione nei lavori più fini agevolato perché l'impugnatura si può prendere il coltello in maniera molto avanzata e sfruttate tutta la lunghezza del filo però ecco bisogna un attimino fare attenzione perché non è dotato di una vera e propria guardia viene fornito con un fodero in cuoio molto semplice è un coltello comunque bello ovviamente anche questo non è molto probabilmente meno del modello originale prestante nel shopping però comunque è un coltello che gestisce bene batuning può essere molto robusto full tang può essere usato anche questo per caccia o cibo comunque è un bel coltello una bella linea un po' più particolare un po' più tradizionale ultima versione che volevo farvi vedere questa vi faccio vedere come arriva praticamente ho colto l'occasione l'ultima versione che ho preso da Thomas di Passione per i coltelli dove nel tempo ho preso numerosi coltelli da lui e anche molto spesso ho riuscito a procurarmi dei pezzi che magari erano un po' difficili da trovare e niente quando arriva il coltello ESI arriva la recente scatola è questa con il logo ESI l'ultima versione che ho preso è questa qui praticamente è la versione con classica ma con manicatura in 3D e G10 fresato quindi molto bella come vedete il manico è tutto lavorato in 3D quindi avete praticamente il rilievo e queste bombature che fanno veramente tanta tanta differenza tra il modello classico vecchio che poi è quello che io ho modificato e questo va sicuro che ce ne passa veramente tanta differenza sembra di avere in mano un altro coltello perché comunque riempie bene la mano da un bel grip non fa male veramente veramente hanno fatto veramente un passo in avanti fanno pagare qualcosina in più per le manicature in 3D però secondo me dovendolo acquistare vale la pena prendere quello con le versioni in 3D è sicuramente più comodo quindi quella versione classica permette anch'essa una presa avanzata e c'è la guardia che comunque garantisce una presa sicura il coltello arriva appunto col suo fodero da assemblare cartellino dove potete trovare qui ci sono piccole indicazioni sulla segnaletica in caso di emergenza segnali e questa è l'altra parte del fodero che poi si attacca con le visi qui non è altro quello che vi ho fatto vedere montato dall'altra parte e comunque ci sono dei fori che permettono di attaccare il patch qui all'interno sono presenti altri foglietti adesivi della Randall Adventure Training e altre indicazioni e istruzioni sul coltello vedete sono ottimi i coltelli ottimi i coltelli qui parliamo di 1095 sembrato intorno ai 57-58 HRC buona tenuta del filo almeno nei modelli questi qui modelli un po' più contenuti che hanno io quelli che ho provato io insomma hanno un'ottima tenuta del filo e questo come vi dicevo l'ho usato già da parecchio tempo e devo dire che a me piace si riaffila veramente bene come vedete il taglio veramente pulito è un coltello abbastanza versatile che si presta bene ai lavori in odore quindi qui praticamente vi ho fatto vedere avete tre versioni dell'ESI 6 quale consigliare questa è una scelta vostra quale 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 la più indicata per voi dovete vedere sicuramente nella versione classica vi consiglio questa è un coltello l'ESI 6 che si prende tra le 150 le 200 euro forse questa qui con la manicatura fresata in 3D si costa poco sotto le 200 euro probabilmente però io ve la consiglio sicuramente ha un grip un'ergonomia veramente notevole molto superiore questa qui è anche molto bella però ecco vi dicevo come vedete la differenza tra impugnatura con guardia e impugnatura senza guardia è un po' più da bushcraft da lavori più fini questo qui è un coltello tattico da sopravvivenza diciamo da sopravvivenza intesa come coltello ad impiego tattico ecco anche militare potrebbe essere questo qui anche se ha la lama nera si sono dedicati un po' più al discorso bushcraft quindi lavorazione del legno eccetera e ha un un po' un old old style ecco come dicevo altro modello interessante è il modello ESI 3 che ho qui la lama è sotto i 9 cm siamo intorno ai 9 cm di 8,8 di tagliente questo qui è la versione in micarta coltello abbastanza compatto saremo intorno sì 20 cm e mezzo di fuori tutto spesso 3 mm quindi molto sottile però devo dire molto robusto questo qui anche di bello è che è un coltello appunto anche lui versatile quindi potete passare dalla lavorazione del legno truccioli leggero batuning lo sostiene benissimo anzi per lo spessore che ha sostiene anche impieghi molto gravosi ma anche lavorazione di cibo taglia molto bene stesso 1095 molto ben riaffilabile ottima tenuta del filo anche lui il fodero classico e di questo volevo anche questa è la versione in micarta è questa che vedete la versione in G10 arancione mi piaceva la versione arancione perché magari quando la porto su neve eccetera ha maggiore visibilità la versione in G10 gli da un'impugnatura un po' più comoda a mio avviso molto più liscia sotto questo verso ha delle zigrinature in rilievo per il grip però qui è più stondata più liscia mi piace mi dà un buon senso un buon impugnatura anche questo coltello che ho fatto vedere anche in altri video che mi piace un coltello compatto da abbinare magari con altri strumenti che però è molto molto versatile io non amo molto quei coltelli magari compatti con spessori non me ne vogliate io non con spessori esagerati cioè se il coltello è compatto deve tagliare bene e fare lavori da coltello compatto per spaccare la legna se non vogliamo usare l'accetta usiamo comunque coltelli più grandi con spessori più maggiori però ovviamente poi nel taglio non saranno magari prestanti o maneggevoli come coltelli piccoli questi coltelli piccoli dalla loro hanno che quando si fanno lavori prettamente di taglio avendo una lama più contenuta si riesce a imprimere molto bene molta più forza e anche nei lavori piccoli hanno maggiore versatilità si riesce a controllare meglio la lama del coltello quindi io ho queste preferenze insomma se un coltello è compatto per me non deve avere uno spessore esagerato e deve tagliare bene assolutamente questo qui è un buon compromesso insomma un bel coltello compatto l'ESI 3 che dire il video sugli ESI si conclude qui spero di aver detto tutto ho fatto vedere questi diversi modelli spero che vi piacciono fatemi sapere le vostre impressioni se anche voi possete coltelli ESI cosa ne pensate e un saluto a tutti al prossimo video ciao ciao